L'attuale bandiera dell'Iran venne adottata il 29 luglio 1980 ed è un riflesso dei cambiamenti portati dalla rivoluzione islamica. La forma base della bandiera è composta da tre bando orizzontali di uguali dimensioni verde, colore dell'Islam che rappresenta anche la crescita, bianco che simboleggia l'onestà e la pace e rosso, sinonimo di coraggio e di martirio. L'emblema rosso nel centro della bandiera, disegnato da Hamid Nadimi, rappresenta quattro mezzalune che formano la parola Allah, mentre una scritta in arabo stilizzato, riportata sul bordo della striscia verde e di quella rossa, la frase Allah Akbar, ovvero Dio è il più grande. Questa frase è ripetuta 22 volte in memoria della rivoluzione, che avvenne il ventiduesimo giorno dell'undicesimo mese del calendario iraniano.